del Genoa, dove tra calciatori e personali dello staff sono risultati positivi in 14, fa capire come basta uno che abbia il Covid anche asintomatico, che immediatamente tutta la comunità di quella squadra può essere contagiata. Immaginiamo che cosa sono le partite dove tu magari non sai, adesso stanno facendo i tamponi a Napoli che ha giocato col Genoa per capire come è andata a finire, però è evidente che come vuoi mantenere un distanziamento durante una partita di calcio? È impossibile, no? Ma Sileri ha detto che non si abbracciassero dopo i gol. Come? Sileri, il sottosegretario, ha detto che non si abbracciassero dopo i gol. Sì, ma pensa soltanto al pallone, ogni volta che asce fuori lo prende un giocatore diverso, lo tira e poi si asciuga il sudore. Ma che ci vuole a contagiarsi? Il problema è doppio, lo dico proprio in dieci secondi. Da una parte c'è una macchina che muove denaro che anche lì è in affanno. E il bilanciamento tra l'economia e la salute è sempre quello. Ci sono delle regole europee e anche lì bisogna vedere se sono adeguate ai vari campionati e se sono adeguate alla situazione. Perché se poi va avanti una competizione internazionale e noi ci fermiamo, le nostre squadre... Che succede? Sì, appunto, è molto complessa la situazione. Prima dicevi Napoli.